Al via da lunedì scorso, come stabilito dalle indicazioni della struttura commissariale nazionale, le somministrazioni della terza dose del vaccino anticovid nelle quattro asle abruzzesi. In questa prima fase, che coinvolge una platea potenziale di circa 30.000 cittadini trapiantati, dializzati e persone con immunodeficienze HIV, non è utilizzato il sistema prenotazione, ma le stesse aziende sanitarie contattano telefonicamente i pazienti per fissare l'appuntamento per la somministrazione. Successivamente seguiranno le altre categorie, gli over 80, gli ospiti delle strutture per anziani, il personale sanitario e sociosanitario. Perché questa terza dose? Lo abbiamo chiesto al direttore dell'Unità Operativa Complessa di Virologia e Microbiologia dell'Asra di Pescara, e il professor Paolo Fazzi. Perché la terza dose del vaccino? Perché questo è un virus che, come il virus influenzale, non riesce a dare nella specie umana, nell'ospito umano, un'immunità che duri più di 12 mesi, ecco, mediamente 12 mesi. Per cui saremo costretti tutti a fare la terza dose e se le cose non andranno benissimo, a fare una quarta, una quinta, una sesta, fin tanto che, ovviamente, questo virus non si sarà abituato alla specie umana. È naturale che, secondo me, è tutto legato alla possibilità di vaccinare tutte le persone del mondo, perché abbiamo visto che le varianti si vanno a generare nei soggetti immunodepressi, soprattutto immunodepressi ADS, ad esempio, sudafricani, tant'è che lì in pratica si è venuta a generare la cosiddetta variante sudafricana e adesso c'è una nuova variante sudafricana che addirittura sembra essere terribile perché pare che riesca a bucare in maniera importantissima tutti i vaccini. Fortunatamente, però, questa nuova variante sudafricana non ha il successo evolutivo che ha avuto il virus Delta, l'ex indiana, e quindi non circola parecchio. Quindi, in definitiva, dobbiamo vaccinarci tutti. Dobbiamo sperare che Delta sia ancora, diciamo, forte sul territorio a livello non solo italiano, ma anche mondiale, così com'è, perché in questa maniera questo vaccino comunque riesce a tutelarci abbastanza bene da Delta, cioè non ci fa ammalare gravemente, non ci fa morire, tranne che in casi particolari. Quindi noi dobbiamo cercare di fare step by step, pensare ad arrivare alla prossima primavera inoltrata, quindi passare l'invernata che è il momento favorevole al virus e sfavorevole alla specie umana. Quindi speriamo che Delta rimanga e che non ci siano, diciamo, le varianti più pericolose di Delta. Ma questa è una strategia a, diciamo, a breve tempo. A lungo tempo l'unica possibilità di uscire fuori da questa pandemia è vaccinare l'intera specie umana, e raggiungere quindi un 85-90% di vaccinati, in modo tale che anche i fragili, quindi immunodepressi o gente che normalmente non produce anticorpi, con l'immunità di greggio potrà essere tutelata. Di conseguenza saremo tutti quanti tutelati. Poi le strategie per vaccinare, Green Pass, vaccino obbligatorio, non spetta sicuramente a me. Io da medico ovviamente dico che bisogna vaccinarsi perché è l'unica possibilità di sfangarla, perché se no diversamente avremo a che fare con questo virus, forse per lustri. A Innovax e soprattutto in NoCovida cosa vuole dire? Ma è bello vivere in una società libera dove si può esprimere qualsiasi cosa. Però voglio pure dire che queste persone probabilmente hanno preso un grande abbaglio, cioè o non vogliono capire oppure hanno capito delle cose sbagliate. Per cui con queste persone bisognerebbe ragionarci e cercare di indurle a farsi vaccinare senza utilizzare l'obbligo vaccinale. Però se è necessario per la salvaguardia altrui, che è poi la maggior parte, ben venga pure l'obbligo vaccinale. Anche perché è l'obbligo vaccinale, anche perché vacciniamo già i nostri figli da tre mesi in poi con i vaccini obbligati. Ora non vedo perché è una situazione pandemica grave per tutti, grave per l'economia, grave per la sanità, grave per le società, grave per la società civile del mondo. Non vedo perché si abbia ancora timore ad imporre l'obbligo vaccinale. Un'ultima domanda le volevo fare. Il vaccino influenzare si può fare in concomitanza o a distanza di qualche tempo dal vaccino anti-Covid? Allora, diciamo che questo tipo di vaccino si può fare passate due o tre settimane dal vaccino anti-Covid, ma così come potrebbero essere effettuati anche altri tipi di vaccini. Poi bisognerebbe entrare nel merito. Ma perché? Perché il sistema immune potrebbe ingolfarsi con tutta una serie di stimoli antigenici. Tra l'altro mi risulta, anche se è una notizia che dovrò verificare, che sembra che Moderna stia pensando a una strategia vaccinale combinata, quindi anti-Covid e anti-influenza. E comunque anche, voglio dire, non possiamo tralasciare influenza virus, che sappiamo fa anche diversi danni, soprattutto nei soggetti anziani, per cui l'invito è di nuovo anche a vaccinarsi per l'anti-influenzale.